Buongiorno, benvenuti alla Sina Stampa di oggi, 14 giugno, mercoledì 14 giugno, la facciamo abbastanza breve perché oggi i giornali non è che sono noiosi di più, sono una specie di pistola puntata alla tempia, anzi così, ah, leggi questi 20 giornali stamattina per me è stato piuttosto difficile, devo dire che non mi hanno dato neanche soddisfazione i miei daily mail, i miei popolari inglesi, oggi continuano a parlare della sanità, della fissazione loro, non la sanità sulle formiche nel letto come facciamo noi, ma la sanità ai costi, l'immigrazione, insomma una mattinata passata male leggendo i giornali di oggi, l'unica notizia che c'è oggi sui giornali è il cambio di passo di Kaiser Sosa, ve lo ricordate ai soliti sospetti, l'invenzione di Kevin Spacey, beh insomma così è Grillo, secondo me è un'invenzione, è Kaiser Sosa, questo mitologico delinquente che sta lì e che dice che tutti noi siamo dei morti viventi, allora Kaiser Sosa ha spiegato insieme a Davide Casaleggio che devono fare i duri, adesso che ci sono le amministrative, dire che i neri sono cattivi, che i Rom sono zingari, che i mendicanti devono essere, che ci sono quelli che girano, il destro, ogni tanto è così che funziona nel Movimento 5 Stelle, tant'è che una volta che fa il destro essendo la sua base di eletti sinistra, si arrabbiano, quindi i giornali fanno presto a trovare i deputati del Movimento 5 Stelle che non ci stanno più con Grillo e che dicono che se si allia sui ragionamenti con Salvini perderebbero e non si candiderebbero più, oggi i giornali si sono interviste uno dietro l'altro su un candidato, su un grillino di Salerno che lascerebbe il Movimento. Chi segue ovviamente Grillo è quella che è in maggiore difficoltà e cioè la Ranci, la sua gestione di Roma è disastrosa, nel senso che non ci si aspettava molto da lei, ma non così poco rispetto a quello che ha fatto fino ad ora, quelli che dicono che avrebbe dovuto risolvere i problemi ovviamente esagerano, ma insomma questa ragazza fino ad ora non mi sembra che non abbia risolto i problemi che ci sono da 20 anni a Roma, ma li abbia gravati, ma comunque questo è un giudizio molto personale per chi vive a Roma. E comunque la Raggi dice, scrive al prefetto, dice non vogliamo più immigrati a Roma, benissimo, non è male come idea, anche il tempismo su cui l'ha fatta, Grillo sul blog le dà ragione, tutti i giornali ne parlano, l'Istituto Cattaneo dice che quello del Movimento 5 Stelle è stato un flop incredibile alle elezioni, io non penso che sia stato un flop di queste dimensioni alle elezioni e quindi tutti i retroscenisti politici oggi dicono che vorrebbero, tutti i retroscenisti dicono appunto che vorrebbero, il Movimento 5 Stelle vorrebbe in questa maniera recuperare un po' di consensi andando a inseguire il centro-destra. Poi dopo leggi alcuni commenti dei giornali e ti viene un po' di stare con Kaiser Sosa, Alberta io smetterò di dire corbellerie ma io consiglio una cosa a te Alberta, vattene a quel paese, no? Se io dico corbellerie nessuno ti obbliga a stare qua a ascoltare le corbellerie che dico io, vai a sentirti con i tuoi amici le rassegne stampe che ti piacciono, io dico quello che cavolo mi pare qua, va bene? Quello che cavolo mi pare, siccome 150.000 persone si collegano su questa roba qua, io continuerò a dirle finché ho voglia di dirle. Chiaro? Chiaro? Benissimo. Allora continuiamo a beneficio dei nostri amici grillini, iniziamo e continuiamo a fargli capire che purtroppo a differenza loro che sono malati con il microchip, il sottoscritto non è malato col microchip, quando legge degli attacchi al Movimento 5 Stelle fuori scomposti completamente, mi viene anche a me da ridere, oggi quando leggo Messina sul Repubblica che dice con la stessa lucidità di un ultra grillo ha dato ordine ai suoi di aprire il fuoco contro i Rom e i migranti, quando sento Messina che apre così, allora dico vabbè ma dai non esageriamo, Kaiser Sosa fa quello che fanno tutti i leader dei partiti, cioè dà il segnale e poi tutti quanti i loro luogotenenti eseguono, avviene in Forza Italia, avviene con gli uomini di Renzi, insomma avviene con tutti quanti, quindi con la stessa lucidità di un ultra, e dai qua la stessa lucidità di un ultra mi viene, Manuela a Londra sta andando a fuoco un grattacielo, sui giornali di oggi non c'è e ancora io non so che cosa sia esattamente ma non lo sanno anche gli altri, altra questione che mi viene da ridere è il commento di Tarquinio che è il direttore dell'Avenire, anche quello è un personaggio favoloso, favoloso, è l'ipocrisia cattolica all'ennesima potenza, ci aveva scritto una settimana fa, un mese fa, che due, tre, tre quarti del programma del momento 5 stelle era perfettamente condivisibile dai cattolici, nel giorno in cui lui fa questa intervista al Corriere della Sera, Grillo fa un'intervista all'Avenire, cioè chiaramente si erano tutti messi d'accordo, oggi riesce a fare un fondo in cui per le prime ventirighe dice ai politici che non rispettano la povertà, la migrazione, i Rom eccetera eccetera e non c'è il Movimento 5 Stelle che fino a un mese fa nonostante tutto aveva difeso fino alla morte, cioè è la grande ipocrisia dell'Italia in cui bisogna essere partigiani, ma l'ipocrisia dei cattolici dell'Avenire è forse la cosa più orribile che esista, preferisco Messina che parla della lucidità degli ultra perché tu lo sai che questa cosa qua la dicono nei confronti di chiunque abbia un atteggiamento nei confronti dell'immigrazione e dei Rom, men che politicamente corretto. E' divertente l'inchiesta del giornale realizzata dal vice direttore del Vigo che dice a proposito di Cittadinanza, cosa che mi è piuttosto cara, dice uno su due del rappresentante del Movimento 5 Stelle disoccupato e tale ritornerebbe se dovesse andare alle elezioni. interessante quindi la selezione della classe politica del Movimento 5 Stelle, ma di questo direi che ne possiamo parlare più tardi. C'è da preoccuparsi di un ritorno di mortadella, qualcuno di voi dice, di Prodi. Allora, posto che Berlusconi ha 80 anni e è ancora là, posto che Mattarella non so quanti anni abbia, ma sembra che ne abbia 125, posto che la gerontocrazia in questo paese e l'immarsiscibilità vale per tutti, a destra, a sinistra e al centro. Allora, sì, può essere, può essere, mi sembra che possa ritornare, ma la cosa che più mi diverte è che c'è un casino tale a sinistra, oggi si legge su tutti i giornali, Pisapia che fa l'offeso con Renzi, ne abbendonde perché dice, ma scusami Renzi, ma tu flertavi con Nazareno, flertavi con Berlusconi, dopo un giorno vieni, quando Berlusconi non passa legge elettorale, ti metti a flertare con me e allora Pisapia che fa? Dice, ci vorrebbe Prodi che sa che è odiato da Renzi. Insomma, ragazzi, questi veramente, sembra che stanno giocando a Monopoli. Invece quelli che giocano veramente bene sono i giocatori dell'NBA, sostanzialmente quelli che giocano a basket negli Stati Uniti. Vivono, vivono i loro onori, i loro miliardi, la loro notorietà straordinaria, ma oggi, come nota il Corriere della Sera, mi sembra che sia il giornale che lo mette in maggiore evidenza, anche il fatto lo fa, ma il Corriere della Sera fa una bella foto di prima pagina, beh, che cosa fanno i giocatori dell'NBA? Secondo me si sono parlati con Tarquinio, il direttore dell'Avvenire e i miliardari dell'NBA non vanno dal miliardario che c'è oggi alla Casa Bianca perché non gli piace Trump, non vanno da Trump. Non vengono, li ha chiamati perché hanno vinto l'NBA, però si rifiutano di andare dal razzista, dal cattivo, dal miliardario, dal ciuffone, Trump. Un'altra generazione di cretini. Brambilla, oggi lo nota, mi sembra qualcuno, qual è? Chi è che lo nota? Qualche giornale che forse nota il fatto che Michela Brambilla si occupi più di animali che di infanzia, voi direte che cosa c'entra? Beh, lei è Presidente della Commissione Finanze, non so di quale organismo parlamentare, se è la Camera o del Senato immagino della Camera, ma non partecipa alle riunioni di cui è il Presidente, questo sostiene il fatto. Con Falunieri parla con Caverzan, in realtà è Caverzan che conosco bene, gli ruba un'intervista galeotta alla presentazione di una nuova fiction sui Carabinieri e dice che Berlusconi dovrebbe fare la politica dei due forni, è che ha là un'altra politica dei due forni, un po' con Renzi, un po' con Salvini. Secondo me è voce dal sen fuggita perché, conoscendo la prudenza di con Falunieri, ma anche la sua lombardia, come si può dire, la sua milanesità è stata proprio presa in un momento in cui, secondo me lui vorrebbe fare no quando ritorna indietro le parole, perché la politica dei due forni ci ricorda quella democrazia cristiana o quei socialisti di un tempo che fu e che nessuno più vuole. E poi comunque la politica dei due forni si fa, non si dichiara. Detto questo, l'ultima notizia è un fatto di cronaca all'ennesima sui treni che vanno a scontrarsi e per un miracolo non ci sono morti nel Salento, il binario è unico, la società che gestisce questa roba si chiama Ferrovie Sud-Est e quando vi parlano delle privatizzazioni che fanno male, quando vi parlano dei privati che se ne approfittano, quando vi spiegano Orlando, il Movimento 5 Stelle, la sinistra, in questo sono tutti uguali che il pubblico è bello, il privato fa schifo, pensate a quella merda delle ferrovie Sud-Est. 474 km di linee, 470 km a binario unico, 410 milioni di euro di buco, perché noi pensiamo che ci sono i fallimenti dei privati e non i fallimenti dello Stato, così come era l'Ilva fino al 1995, era fallimentare e inquinante, così come sono le ferrovie che prima che fossero privatizzate o rese Grazia Moretti un po' più private, facevano cagare e chi paga quando questo fa schifo? I cittadini e i consumatori, ma si alzano, acqua pubblica e di fatti perdiamo l'acqua, ferrovie pubbliche e di fatti perdiamo le ferrovie pubbliche, insomma la retorica orrenda della sinistra che va dal Movimento 5 Stelle a Grillo, a Orlando, a Renzi, fa sì che in questo paese ci siano ancora delle ferrovie pubbliche in cui c'è un binario unico, in cui perdono 410 milioni di euro e che ha un debito di 410 milioni di euro e in cui andarci sopra, come sanno i miei amici Salentini, è un terno all'otto, quindi i Salentini invece di romperci le balle con NoTap, non i Salentini, una piccola minoranza di fascinolosi, dovrebbero andare a rompere i coglioni all'azienda pubblica delle ferrovie con le quali rischiano tutti i giorni la vita e invece no, vanno a rompere i Salentini a NoTap che porterà ricchezze in questo paese, non alle ferrovie pubbliche con i quali tutti i giorni rischiano la vita nel Salento, tutti i giorni e sono in ritardo e c'è il binario unico e sono caldi e non hanno la ricondizionata e le nuove carrozze ordinate in Polonia sono pagate, è stata pagata 20 milioni rispetto a un prezzo di mercato di 500 mila, no, vanno a rompere i Salentini a NoTap, non alle ferrovie sud-est per cui ci sono migliaia di persone, sapete perché? Perché le ferrovie sud-est sono pubbliche, sono dello Stato, lo Stato fa schifo, dovete rendervi conto che è meglio un privato che uno Stato che fa schifo, per cui ogni volta che c'è un incidente come questo tutti zitti e muti, il piccolo manager che se ne ha approfittato, no, è il principio per cui lo Stato deve fare le cose meglio dei privati che mi fa venire il sangue al cervello. Ciao!